Vi ringrazio di cuore per essere venuti stasera. Alziamo i calici e facciamo un brindisi. Cin cin! Dopo la festa mi ha seguita fino a casa. Allontanati dalla finestra. Stai bene? Perché mi hai seguita dopo la festa? O ti ricordi soltanto quando ti conviene? Io non mi ricordo. È incredibile che non ti sia ammalato. Io non mi ammalo da anni. Ti sei solo perso un minuto fa. No, non mi sono perso. Perché te ne sei andata? Le cose si stavano complicando. Che cosa vuoi dire? Sto passando un periodo molto difficile. Salve, bentornato. Il solito per lei? Oh, sì. Che cos'è il solito? Non lo so. Non lo sai? No. Ti ricordi di lei? No. Io non ho dubbio. Grazie.